Le toghe paolane incrociano le braccia contro soppressioni e accorpamenti. È quanto emerso dalla seduta del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Tribunale di Paola del 21 novembre, nel corso della quale è stata decisa l'astenzione dalle udienze per il 2, 3 e 5 dicembre prossimi. Il Foro di Paola dunque sceglie questa forma di protesta per opporsi alla paventata soppressione del Tribunale di Paola, della sezione di staccata di Scalea e dell'accorpamento della Procura della Repubblica a Cosenza. Il tutto nell'ambito della possibilità di ridisegnare la geografia giudiziaria a seguito dell'approvazione della legge finanziaria. Per venerdì 2 dicembre, giorno in cui inizierà l'astenzione, è stata inoltre convocata un'assemblea con i sindaci del territorio presso la sede dell'Ordine per decidere insieme ulteriori azioni. Nel documento scaturito dall'ultimo Consiglio degli Avvocati di Paola viene chiesto infatti ai primi cittadini dei 32 comuni del circondario del Tribunale di Paola di adottare tutte le misure e il loro potere per opporsi alla soppressione. Ma l'appello dell'Ordine degli Avvocati di Paola è rivolto soprattutto al Governo nazionale. Il Tribunale e la Procura di Paola, scritto nel documento dell'Ordine a firma del Presidente Vito Caldiero, sono imprescindibili presidi di giustizia in un territorio vulnerabile per la presenza di associazioni di stampo mafioso. Quella dell'Argine alle cosche locali però non è l'unica motivazione adotta dal Foro di Paola per opporsi alla chiusura. La soppressione della sede di Paola, scritto nella nota di Caldiero, invece di una spesa razionalizzata comporterebbe aggravi economici dovuti a maggiori spostamenti e alla costruzione di nuove sedi atte ad accogliere la gran mole di personale e soprattutto di utenza.